Dolore estrazio ad Arzano per i funerali di Ciro Ascione, il giovane sedicenne morto in un tragico incidente. Un silenzio surreale, ha accolto il feretro del ragazzo. Lacrime e commozione quando sua sorella Marzia ha letto una lettera in cui ricorda la dolcezza di un ragazzino speciale, dolce e desideroso di vivere. Scrivo a te, angelo mio, per raccontarti di mio fratello Ciro, che ora è l'angelo più bello, ha detto la sorella dall'altare, commuovendo migliaia di persone, arrivate in chiesa per dare l'ultimo saluto al sedicenne. Ciro è sempre stato un angelo, troppo buono e bello per questa vita. Porterò sempre mio fratello nella mia anima, so che saprà darmi la forza per superare questo inferno. Tante mamme, tra le lacrime, chiedono che si faccia però chiarezza sugli ultimi attimi di vita di Ciro. Il ragazzo era scomparso sabato sera ed è stato ritrovato cadavere tre giorni dopo sulla masticciata della linea ferroviaria, a meno di un chilometro dalla stazione di Casoria, dove lo aspettava il papà. Come confermato dall'autopsia, il ragazzo sarebbe morto nel tremendo impatto con il pietrisco dei binari, dopo essere caduto ad una velocità intorno ai 100 chilometri all'ora, da quell'esile appiglio del predellino del vagone, sul quale era saltato dopo la chiusura delle porte. Ma molte mamme e molti parenti e amici del ragazzo non credono che il sedicenne si possa essere aggrappato alla porta di uno dei vagoni, appoggiando i piedi sullo stretto predellino. Un azzardo troppo grande per un ragazzo come Ciro, racconta qualcuno sul sagrato della chiesa.